Bella ragazzi, siamo i Granas e vi stiamo parlando da Milano siamo in camera in questo momento e come vedete è per noi ma non per voi e come vedete, vabbè ovvio, quando fai un video è sempre in diretta comunque è per noi io sono raffreddadissimo, infatti non riesco proprio per il raffreddore mi ha rovinato questa due giorni di Milano sto veramente messo male e sto per esvenire e poi insomma stagliato a tutto il gruppo non è semplice quindi niente voi questo video lo vedrete appunto quando saremo già tornati quindi non sarà in diretta, non è come gli altri youtuber che l'hanno caricato il giorno stesso che l'hanno fatto purtroppo non abbiamo i mezzi purtroppo per fare questo e quindi lo vedrete quando torneremo probabilmente martedì comunque è una bella esperienza consiglio di farla anche a voi perché siete appassionati di videogiochi non come youtuber ma proprio come persone, cioè alla fine su tutti i stand, su tutti i video poi io l'ho rotto il culo davanti a tutti vabbè, non ne vediamo vale la pena andarci anche se vivete fuori Milano quindi anche se siete di Roma da qualsiasi parte d'Italia insomma vale la pena andarci perché è diversa da Romics e da tutti gli altri eventi Luca Comics e questi qua perché il Romics respiri veramente sono tranquilli, non sono flani per chi conosce il tipo e è diversa se voi amate appunto gli youtuber tutto il mondo youtube è l'evento perfetto per andare a per stare a contatto con tutto il mondo di youtube appunto scusate ma sono veramente fuso sono fuso come il formaggio è un grande evento appunto per tenerti a contatto tutti insieme e finalmente poi abbiamo conosciuto tutti abbiamo conosciuto tutti adesso abbiamo completato il cerchio abbiamo conosciuto tutti i youtuber che potete immaginare di quelli che fanno partire la coda appunto che abbiamo conosciuto veramente tutti devo dire che sono per quel poco che ci siamo stati a contatto comunque non è che ci abbiamo visto tanto sono due giorni però comunque veramente persone alla mano fantastiche cioè noi abbiamo non lo so con qualcuno abbiamo anche iniziato a scherzare subito dall'inizio come se ci fosse già una confidenza delle base e quindi vi assicuro che come li vedete sono realmente nei video non sono falsi non sono non fingono sono veramente così tutti i quarti sono youtuber veri sono e a differenza appunto di molte persone che sono al mondo del spettacolo con per esempio gli attori che poi quando li vengono travestiti sono dei fili da un ghiotta sono bravissimi sono comunque persone appunto alla mano e molto genuina ecco questo volevo dire proprio alla mano eh e che abbiamo fatto? con questa che condotta? che abbiamo fatto? noi siamo stati in giro perché non avevamo il passi per entrare a tutte le cose che hanno fatto gli altri eh sì il passi non abbiamo avuto i privilegi che hanno avuto tutti gli altri in quanto me la vogliali quindi siamo stati in giro per la fiera avevamo anche eventi durante la fiera quindi si mentre noi cazzeggiavamo noi cazzeggiavamo giocavamo a fifa loro facevamo cose semplici lui vinceva a culo e quindi non era a culo non lo si vabbè comunque questa è la stanza la fanno evidente niente di che un hotel che diciamo pensano tre stelle è buonissimo diciamo vabbè poi vi vedi che era un sito dell'hotel no non si è inca ci hanno dato in quanto è super il segreto perché ci sono c'è tutta la ricerca vabbè comunque a parte gli scherzi a parte gli scherzi li stiamo sbrigando perché noi dovevamo uscire dovevamo mangiare si per i mangiare ok dobbiamo mangiare ok e quindi niente le granasse è tutto noi ci siamo al prossimo video le granasse è tutto le granasse è tutto da quella è tutto è tutto dalle mie scarpe è tutto bella bella ciao ciao ciao